Con la scadenza del 31 agosto sempre più vicina, a Kabul si avviano al termine le operazioni di evacuazione delle truppe europee e statunitensi. Questo sabato le ultime forze britanniche in Afghanistan hanno lasciato il paese. Sicurezza rafforzata lungo il perimetro dell'aeroporto. In un comunicato diffuso questo sabato, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che un altro attacco terroristico nelle prossime 24-36 ore è altamente probabile. La Francia ha avviato colloqui con i talebani e con il Qatar per poter evacuare in un secondo momento tutti coloro che non sono riusciti ad andarsene prima che le forze francesi terminassero le operazioni all'aeroporto di Kabul. Sono stati avviati colloqui con i talebani sulla questione delle operazioni umanitarie e sulla capacità di proteggere e rimpatriare le donne e gli uomini afghani che sono a rischio, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. Stiamo lavorando anche con il Qatar per poter avviare queste operazioni. Nel frattempo le forze della resistenza antitalebana nel Panjshir hanno smentito che i talebani siano riusciti ad entrare nella provincia da varie direzioni. Non c'è nessun combattimento nel Panjshir e nessuno è entrato nella provincia, ha detto un portavoce del gruppo guidato da Ahmad Massoud.